E' il momento della solidarietà, questo è il grido e il motto che abbiamo lanciato come amministrazione. Io non è che devo aggiungere tanto altro di quanto ha già detto il sindaco e il presidente della Proloco. Noi siamo corsi, ci siamo subito attivati ad aiutare la popolazione Ucraina e soprattutto i nostri amici ucraini ormai integrati qua a Parghelia, cittadini pargheliesi tutto per tutto, i quali hanno ancora i loro parenti e amici lì in Ucraina. E quindi è stato normale per noi attivarci a fare questa raccolta materiale che potrebbe essere utile, che sicuramente è utile per la loro popolazione. Nel 2022, come diceva Cristina, ancora vedere popoli che aggrediscono altri popoli è una cosa impensabile. Stiamo ancora sul territorio, gli uffici comunali, come già detto il sindaco, sono aperti più avanti e nei prossimi giorni per la raccolta. Forse Ucraina, forse Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.